della decisione quadro 187 del 2002, quella appunto istitutiva di Eurojust, prevede quali corrispondenti nazionali l'ufficio secondo della Direzione Generale della Giustizia Penale del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, la Direzione Nazionale Antimafia e le procure generali della Repubblica presso le corti di appello, ciascuno rispetto alle proprie attribuzioni. Il Procuratore Nazionale Antimafia, essendo già punto di contatto di Eurojust, estende in via automatica le proprie competenze per chiaro effetto diretto delle nuove attribuzioni, come tali riflessi anche nella nuova denominazione dell'Organo di Coordinamento Investigativo Nazionale. In tal senso provvederò a dare specifiche indicazioni al membro nazionale di Eurojust attraverso il competente Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero. Anche con riguardo alla Rete Giudiziaria europea, la Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo è stata da tempo individuata come punto di contatto. È di tutta evidenza che i nuovi compiti attribuiti dalla legge di recente approvazione troveranno coerente riflesso nelle scelte del Ministero necessarie al costante aggiornamento delle funzioni di facilitazione della cooperazione giudiziaria e proprie della Rete. Grazie. Ministro, ha facoltà di replicare il deputato Rabbino. Prego. Signor Ministro, grazie. A nome anche dei colleghi D'Ambroso e Mazziotti di Celso dichiaro la soddisfazione da parte del gruppo parlamentare di scelta civica. Evidentemente già negli anni 80 e 90, poi ancora nello scorso decennio, i servizi antiterrorismo di mezza Europa documentarono con le loro indagini l'esistenza di una vasta attività di reclutamento, spesso effettuata all'ombra delle moschee più radicali, stanziate nel vecchio continente, finalizzata in stradare giovani mujahidin verso zone caratterizzate da conflitti interetnici e religiosi. In chiave di prevenzione, il fenomeno dell'afflusso, in particolare in questi ultimi mesi verso la Siria, di questa tipologia di militanti islamici, ha destato forti preoccupazioni a livello internazionale ed è stato denunciato sia nel rapporto sul terrorismo dell'Europol che dal coordinatore antiterrorismo dell'Unione Europea. Ebbene, secondo cifre recenti della Presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, il numero dei foreign fighters che hanno lasciato l'Europa alla volta della Siria monterebbe a circa 2.500 militanti. E sempre il rapporto di Europol sul terrorismo evidenzia come importanti operazioni di polizia connesse alla partenza o al ritorno di militanti islamisti dal quadrante siriano siano state condotte soprattutto in Belgio, Francia, Olanda e Regno Unito. Grazie, Signor Ministro. Grazie, Onorevole Rabbino. Passiamo all'interrogazione numero 3, 1450, del Deputato Fava, concernente intendimenti in ordine all'invio di una commissione d'accesso nel comune di Brescello, provincia di Reggio Emilia. Il Deputato Fava ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego, Onorevole. La ringrazio, Signora Presidente. Buongiorno, Signor Ministro. Come sai, il Sindaco di Brescello, Marcello Cofrini e notoriamente per sua stessa pubblica e ripetuta ammissione, persona che ha rapporti di cortesia, di cordialità, di frequentazione con Francesco Grande Aracri, che è un esponente, una famiglia considerata da più inchieste giudiziare punto di riferimento della penetrazione mafiosa in Emilia-Romagna e non soltanto in Emilia-Romagna. Numerose prese di posizione non sono servite a indurre il Sindaco alle dimissioni. Le chiediamo di impartire al Prefetto, se non ritengo.